Sarà mio I nemici mi stanno sparando Ricarica scudi in corso Versaglio individuato Sparo sui soggetti Avvistato un soggetto Lancio granata a frammentazione Drone di guaritura Sta ricaricando Ricaricando Ho eliminato un limito Mi spara comici Bat, bat venda, bat venda Ricaricando Noo maro Contatto Contatto Nube di gas rilasciate Ostile proprio qui Mamma mia Questa parte Attivo lo scudo Andrà tutta l'aria Lo stanno sparando Ignoralo Spostiamoci in quest'area Attivo lo scudo Attivo lo scudo Mi sto curando Spostiamo 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 Mortale Spostiamo 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 Sto curando le mie ferite. Suggerisco di fare qualche ricerca in questa zona. Sto usando il rampino. Sto curando le mie ferite. Usa il rampino. Come on come on pat. Zip flash. Zip flash. Sono in graffio, un secondo. Mi servono munizioni energetiche. Qui c'è un caricatore leggero esteso, livello 3. Potrebbe farmi comodo. Mi rimetto in sesto. Mi servono degli scudi. Sto chiamando una capsula assistenza. Drone di guarigione, se mi hai bisogno. Mi servono degli scudi. Questa è una cella a scudo. Occhio al nuovo leader uccidini. Carico gli scudi. Non sogliamo di stare a scuola. Progetto iniziale. La mia scuola. Ricarico gli scudi. Dedico battuto. Prostimo a me non lo so. Ascoltati, sono l'ottotiro. E anche l'ultimo è a terra. Boom. Quell'uccisione è stata... Subdisfacente. Replicatori in discesa. Sto ricaricando. Non essere timido, saluta Qui c'è un kit penice Ricarico gli scudi Ricarica scudi in corso Qui c'è uno scudo evo, livello 3 Credo che non siamo i primi ad aver attraversato quest'area C'è una torre di lancio laggiù Sospetto che troveremo qualcosa qui L'anallo è vicino, un minuto alla scuola Livello 3 Usa il rampino 5 secondi, l'anallo è proprio lì davanti L'anallo è proprio lì davanti Raggiunge una porta chiusa 30 secondi, siamo vicini Qui c'è uno zaino, livello 3 Restano 10 secondi Andiamo da questa parte Come on Pathfinder, come on Dovremo condurre una ricerca proprio qui Morire fuori dall'anello sarebbe Inutile Ho un soggetto in vista, proprio qui Chi è pronto a volare sulla ziplata? No Nooo Nooooo Contacto con bersaglio Bersaglio laggiù Grazie Ricarico gli scudi Abbiamo perso un compagno Mi vanno individuata, mi stanno sparando Non siamo tutti nell'anello E non siamo tutti degni di continuare Sto ricaricando gli scudi È la nostra occasione per recuperare il banner Replicatore in discesa Dovremmo andare qui Ho qualche scuola extra Sono sotto fuoco nemico Fuoco? Soggetto a terra Lancio granata a fermentazione Sto ricaricando gli scudi Mi stanno sparando Sto curando le mie ferite Un minuto alla chiusura dell'anello qui vicino Altri nemici a terra Sto ricaricando Mi rimetto in senso Dovremmo andare qui 30 secondi Siamo vicini Respond beacon Respond beacon No qui c'è un bolt attenzione anello sto per attaccare qui rilascio drole di guarigione vieni a prendere il tuo regalo di compleanno qui c'è uno scudo evo inizio con la rovescia anello close close hold potrebbe esserci qualcosa di interessante oh why siamo tutti dentro questo anello qui c'è un r99 dovremmo condurre una ricerca proprio qui r99 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 come on pat come on faster 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 uh shield shield here potter 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 posizionata attender o paziente potter posizionata attender o paziente qui c'è un nacella scudo qui c'è uno scudo evo livello 3 aggiungo un altro trap la cassa qui c'è una capsula rifornimenti aperta dovremmo condurre una ricerca proprio qui ignora no 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 10 secondi, L'anello è lì davanti potrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte sospetto che troveremo qualcosa qui aggiungo una nuova variabile mi servono munizioni leggere qui ci sono munizioni leggere qui ci sono munizioni leggeri ringraziami quando vinciamo hai sentito un nemico individuato piccino un nemico individuato piccino un nemico proprio qui rimangono solo altre aspettate sono sotto tiro sono a terra avvistato un soggetto spostiamoci in quest'area 45 secondi l'anello è vicino passiamo a questo settore penso io scudo attivo sto ricaricando gli scudi spostando le vittime mancano solo 30 secondi l'anello è vicino ho eliminato un nemico mi hanno individuato mi stanno sparando stop nemico vicino scudo di star scudo di star spostando di star trappola posizionata attenderò paziente l'anello è vicino 10 sec ricarico gli scudi 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 trappola posizionata attenderò paziente è pronto a volare su una zipline io vedo mi lascio dietro una trappola gans soggetto avvistato qui rilascio drone di guarigione non ci riesco di fare qualche ricerca in questa zona oh alberto guarda davanti chi l'ho fatto guarda davanti chi l'ho fatto guarda davanti siamo qui siete i campioni Apex Dieci Che cazzo urli